L'altro giorno sono partito con la splendida idea di reinstallare HunterGhost sul Surface. Così ho detto, vabbè, ok, mi scarico la ISO fresca fresca, cerco HunterGhost su Google, vado sul sito, oh oh oh, carica il sito, ok, vado nella sezione da... no, 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 cosa? E poi, non so, vengo rediretto da di qua, di là, di su, di giù, mille siti di merda, e questo è... boh, chissà che cos'è. Così dico, vabbè, ok, non c'è problema, c'è qualche cosa di strano che non mi torna, ma sono sicuro che se cerco la HunterGhost ISO download su SourceForge, la potrò scaricare. E... ok, no, questa non è SourceForge, e di fatto ero riuscito a scaricarmela da SourceForge. Eccola qua. Tata-ta-ta, ti-ti-ti, mi rieco qui, la vado a scaricare, va bene, bello. Però poi durante l'installazione mi succede questo. Compare dello spam, sapete, no, la presentazione di HunterGhost durante l'installazione, ecco qui compare dello spam. Ma poi, oltre a questo, non è neanche andata a buon fine l'installazione. Perché l'installazione è fortemente basata sulla rete, quindi deve scaricare diverse cose dai repository, e mi dà errore di connessione ai repository, e quindi non so bene come mai, ma anche questo aspetto non funzionava, e non l'ho potuto portare a termine l'installazione. Non ero sicuro se fosse un problema mio, della mia linea, o di HunterGhost e i suoi server, fino a che appunto non sono arrivato su questo post di Reddit di... un paio di giorni fa, tre giorni fa, dove spiegano che effettivamente il sito di HunterGhost è stato hackerato. Così poi trovo anche nel forum ufficiale di HunterGhost qualcuno che chiede ma perché non ci sono info riguardo un possibile compromissione del sito? E di fatto c'è stata. E allora bla bla bla, ok, qualcuno dice sì perché il dominio è stato attaccato, poi c'è una risposta ufficiale da uno degli sviluppatori che dice il sistema non è mai stato compromesso, semplicemente le ISO risiedono su un server differente, quindi non preoccupatevi, le ISO sono a posto, non sono state in alcun modo compromesse. Quello che è successo è che il nostro sito è stato compromesso tramite una vulnerabilità di un plugin di WordPress. E se ve lo stavate chiedendo è questa la ragione per cui non uso fottutamente WordPress. Voglio dire, non è una brutta piattaforma anzi, però tra WordPress e i suoi plugin in particolar modo sono pieni 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 di falle e i casi sono che o sono sempre super veloce ad aggiornare i plugin di WordPress e ho anche culo che vengono rilasciati gli aggiornamenti prima che il mio sito venga compromesso o altrimenti se ho una vita e ci passo solo sporadicamente è meglio evitare questo genere di piattaforme, specialmente perché il contenuto del mio sito è abbastanza statico, aggiorno cose ogni tanto, non regolarmente, quindi non c'è davvero bisogno di un DBMS e cose di questo tipo. Però tornando alla questione Huntergos, fondamentalmente dice ok, non c'è problema e il motivo per cui compaiono pubblicità di spam e phishing anche nell'installer della nostra distribuzione è perché questo installer prende le immagini dal nostro web server e se il server è compromesso l'installer scarica le immagini di quello. Infine poi precisa che non è lui ad occuparsi della pulizia ma Dustin che non so chi sia però ok. Ora il problema qui è che non è stato spiegato come mai l'installazione non va a buon fine o almeno nel mio caso non è andata a buon fine. Però ripeto potrebbe essere un problema solo mio. L'ultimo aggiornamento di questo post è un giorno fa dove dice abbiamo appena pagato per l'audit, quindi l'audit sulla sicurezza, quindi non so quanto ci vorrà scusate. Ad ogni modo dovrebbe essere in grado di lasciare la prossima release a ottobre, eccetera eccetera eccetera. Ok, il mio consiglio qui è per il momento almeno fino a ottobre lasciate perdere Huntergos perché ho come l'impressione che non sappiano precisamente che cosa è successo e anche se è stato soltanto il blog a essere stato compromesso la cosa che l'installer non va da buon fine non lo so. L'altro ieri non ero proprio neanche materialmente in grado di portare a termine l'installazione quindi il mio consiglio per ora è non sprecate il vostro tempo. A questo punto visto che a me serve proprio Arch installato entro la prossima settimana penso che installerò Arch puro sul laptop anche se è un po' una rottura. Comunque questo non è un video su quanto Huntergos faccia schifo ma vi informavo di evitare almeno fino a ottobre di perdere il vostro tempo, ecco.